visto che vi piacciono un po' i video in cui mi metto a nudo e non in senso letterale per l'amor di dio altrimenti qui chiudereste il video velocissimamente ma no oggi vi svelo una serie di cose che non farei più in viaggio un video che fa il paio con un video storico qui del canale in cui avevo elencato una serie di errori che avevo fatto in viaggio è diverso questo video non c'è non ripeto le cose che avevo inserito nel video precedente in questo caso sarò più esperienziale sarò più filosofico sarò più di organizzazione rispetto a quel video dove raccontavo una serie di errori pratici errori organizzativi ma pratici che avevo fatto qui esula un po da quel discorso e quindi e di nuovo visto che questa serie di video in cui ammetto anche le mie debolezze e non pensiate che non le abbia ne ho aiosa vi piace quindi perché no perché non continuare su questa linea e condividere cose che ho fatto in passato mi sono pentito di aver fatto e che non rifarò mai in futuro che non cioè se tornassi indietro non le rifarei davvero magari possono tornare utili a qualcuno che sta pensando di fare una cosa del genere e si ferma lì un attimo e dice ma ma che poi non mi penta come cristiano adesso facciamo una valutazione in più poi magari può diventare una cosa che tu fai comunque perché nelle tue corde però un pensiero in più magari ci deve stare cominciamo con qualcosa di semplicissimo il seguire le mode nel senso in questo caso del andare in luoghi perché ci vanno tutti sostanzialmente perché c'è questo battagio c'è questo bombardamento mediatico bombardamento anche di letture tutti leggono la stessa cosa si va tutti nello stesso posto io in passato ci sono cascato ci sono veramente cascato a piedi pari faccio l'esempio del mio primo viaggio in thailandia in quel viaggio andai in due luoghi in cui non andrei mai più e voi direte ma ci sei andato li hai visti coi tuoi occhi e adesso dici così sì ma le informazioni le avevo già allora anche se stiamo parlando di tanti anni fa e sono phuket e pai due luoghi completamente diversi uno dall'altro uno nel nord della thailandia e l'ultimo avamposto hippie venduto così in realtà un luogo veramente fuori dal tempo l'unica cosa bella sono le campagne nei dintorni ma veramente anche trovare l'atmosfera che volevo trovare non so perché la volessi trovare ecco era un momento della mia vita un po balordo ecco per quanto riguarda phuket l'ho già raccontato molte volte è secondo me il luogo peggiore dove un italiano può andare nel senso che con tutta con tutta l'apertura che ho per chi ci vive con tutta l'apertura che ho per chi la ama ma io non riesco io se devo sconsigliare un luogo in thailandia sconsiglio phuket perché proprio perché è il luogo turistico per eccellenza quella non è thailandia quella non è thailandia anzi in alcuni punti dell'isola di phuket è come essere in una spiaggia italiana con tanti italiani però nella versione più becera della spiaggia italiana con il turismo sessuale con tutto quello che ci sta dietro giudizio assolutamente personale ma è un errore ma è una cosa che non rifarei mai più e che se posso sconsiglio ti ci faccio fare un pensiero ok ma proprio con questo pensiero io ci lavoro anche in questo periodo della mia vita nel senso che ci sono destinazioni come l'islanda come bali totalmente diverse una dall'altra che tengo lontano da me proprio per questo motivo perché sono mode non sto dicendo che sono luoghi brutti sono luoghi meravigliosi ma se devo andare con la comitiva se devo andare con la fila e allora no per me non sto dicendo di fuggire i luoghi turistici sto solo dicendo che se ci sono dei problemi in queste destinazioni dovute all'over turisme un motivo c'è ecco io non mi accodo tra quelli che vogliono sviluppare ancora di più il problema questo è e quindi albando le mode e cerco di ragionare con la mia testa con dei pro e con dei contro numero due un'altra cosa che non farei mai più è quella di aggregarmi in viaggio a fare delle escursioni con grandi grupponi turistici solo per il fatto che quell'escursione costa meno di altre la realtà è che si costa meno ma la qualità è molto minore rispetto a un'escursione magari scelta un pochino più in maniera più oculata e che abbia meno persone non sto dicendo di non fare le escursioni anzi io ogni viaggio che faccio anche con silvia adesso cerchiamo una guida cerchiamo dei gruppi dei piccoli gruppi con cui fare delle escursioni private ma facciamo sempre delle cernite molto importanti gruppi piccoli si spende qualcosa di più non me ne frega è comunque un'esperienza diversa se vai con un gruppo grosso e siete in 50 in 60 capisci che anche l'attenzione che avrà la guida o chi vi porta sarà nettamente inferiore sul singolo rispetto al gruppo se siete in 8 in 10 quell'attenzione è totalmente diversa e quasi non dico uno a uno ma i tempi per fare domande dirette li hai assolutamente faccio esempio anche dell'anno scorso a kotao isola della thailandia cito ancora la thailandia c'erano escursioni che portavano a questi cinque luoghi in cui fare snorkeling erano tutte uguali ma ne abbiamo trovato uno che seppur il giro era più o meno simile variava per il fatto che la barca era molto più piccola il gruppo era infinitamente più piccolo meno di 20 rispetto ai barconi con anche più di 100 persone a bordo e l'escursione stessa costava un 50 per cento in più rispetto a quella del barcone con 100 e più persone mi sembra anche logico però abbiamo vinto scegliendo quella più piccola perché la barca era molto più carina molto più vivibile siamo riusciti ad interagire molto di più con le persone che erano poche l'organizzazione ha permesso di andare a fare un giro leggermente diverso che ci ha permesso di arrivare ad esempio in una delle diciamo spiagge più gettonate di quella zona di thailandia prima di tutti gli altri prima di tutti gli altri quando ancora non c'era nessuno c'eravamo solo noi e dopo nel momento in cui andavamo via dopo un'oretta e mezzo arrivava arrivava il mondo sbarcava la qualunque ecco con un'organizzazione un pochino più specifica un pochino più dedicata ottieni sempre meglio quindi non andrei più a prenotare escursioni che ho prenotato in passato solo per spendere meno con grandi gruppi numero 3 sapete quanto sono un buon gustaio quanto mi piace a livello culturale assaggiare piatti locali devo però ammettere che senza entrare in dettaglio perché non mi piace entrare in dettaglio in questo senso non assaggerei più determinati cibi che in passato ho assaggiato per una questione etica per una questione di sensibilità che negli anni mi si è sviluppata ripeto non voglio fare esempi perché non è questo il luogo ideale per fare esempi però ci arrivate da soli stiamo parlando di tipologie di assaggi su cose che sono veramente anche con specie in via d'estinzione eccetera eccetera quindi errori in questo caso è un errore che non avevo inserito in quella lista che inserisco adesso ed è una cosa che non farei mai più ma ripeto una cosa molto personale anche se come etica ti consiglio di non farlo ecco cerca di valutare anche l'esperienza che stai facendo se quell'esperienza è veramente impattante se quell'esperienza va a toccare delle corde che ti danno un po fastidio forse non è nemmeno da fare non sei obbligato o obbligato a farlo in questo caso l'assaggiare cibi che ora non assaggerai più non tanto per la qualità o per il sapore quanto per una questione di sensibilità che ho sviluppato negli anni ti sto aiutando adesso ti ho aiutato in passato ti ho informato allora puoi sostenere il progetto viaggio vero con un grazie con il pulsante appunto grazie una piccola donazione che sostiene il progetto viaggio vero o ancora meglio con il pulsante sempre qui sotto abbonati puoi appunto abbonarti sostenere il progetto e avere tanti vantaggi non voglio assolutamente toglierti tempo a questo contenuto quindi se clicchi sul tasto abbonati partirà un video e vedrai tutte le possibilità di abbonamento sono cinque con diversi livelli di vantaggio a crescere insomma ci sono abbonamenti per tutti si parte da 99 centesimi di euro al mese nemmeno il costo di un caffè per te per avere già tanti tanti vantaggi quindi non ti resta che cliccare sul pulsante abbonati e scoprire tutti i vantaggi a seconda dei vari livelli di abbonamento e grazie per il tuo sostegno numero quattro detto che si trattava di cose più filosofiche più etiche in realtà questa è una cosa pratica però dovevo inserirla anche perché non l'avevo mai inserita non comprerei più volo il solo volo su agenzie online anche grandi agenzie online lo sconsiglio da sempre quindi non è una cosa che non dico mai quando comprate un pacchetto volo più hotel o comprate una vacanza completa comprate qualcosa di diverso un prodotto completamente diverso rispetto a quando comprate il solo volo il comprare il solo volo lo diciamo mille volte consiste nel fatto di andare a mettere un terzo incomodo fra voi e la compagnia aerea e in caso di problemi è un gran casino può essere un gran casino io mi ricordo e anche questo l'ho già raccontato ma è tanto che non lo faccio in vecchi video il problema che ebbi con lastminute.com agenzia online che consiglio perché poi ho acquistato in nei tempi successivi senza mai avere problemi ma in passato acquistai un volo a gennaio per la grecia allora non c'erano tanti low cost e quindi comprai un volo di air one che ora è una compagnia che non esiste più air one vendette la tratta a agent airline che esiste ma questo passaggio di di prenotazione non fu ratificato all'astminute.com e io praticamente risultavo senza volo ora io ci ho speso tempo anima e corpo ho sputato sangue conoscevo l'ambiente e quindi sapevo che tasti toccare ma nella maggior parte dei casi questo problema diventa di difficile risoluzione e feci fatica anch'io e per quanto riguarda l'andata lo risolsi soltanto in aeroporto in partenza potevo non partire e per quanto riguarda il ritorno lo risolvemmo solo il giorno prima di ripartire quindi è stata una vacanza che non consiglio a nessuno un po per il la spada di damocle della partenza un po per la spada di damocle che c'era anche in vacanza perché non sapevi bene quindi tutto questo non parlarsi fra agenzia di viaggi online e compagnia aeree è un gran casino per noi quindi se dovete comprare il solo volo io ve lo sconsiglio ed è una cosa che non farei mai più faccio ricerche anche su queste agenzie online e poi eventualmente compro quel volo se ci aggiungo magari un hotel per le prime notte perché in quel caso lì il prodotto cambia diventa diverso e tu hai tutele decisamente maggiori numero 5 di nuovo voli non sceglierei più una destinazione solo per il suo volo economico almeno lo potrei fare ma prima farei una piccola ricerca per vedere il costo della vita in quella destinazione in passato ho fatto delle stronzate in questo senso perché ho scelto magari ho passato un periodo della mia vita in cui andavo su Ryanair guardavo la fila di destinazioni che non costavano niente 4 euro 5 euro 6 euro partivo per qualche giorno due giorni tre giorni e poi magari atterravo in una destinazione che non conoscevo e che si rivelava una situazione in cui il costo della vita era esagerato mi ricordo una volta con un paio di amiche trovammo un volo ridicolo come prezzo per Augesund che è a sud di Bergen Norvegia voi avete solo potete solo immaginare i costi poiché ebbero quei tre giorni perché sì abbiamo pagato meno di 10 euro un volo ma anche solo il trasporto da Augesund a Bergen che era la cittadina che volevamo in cui volevamo stare e visitare costò 40 euro per un'ora e mezzo di bus cioè roba incredibile poi la cena le cene pazzesco ci ritrovammo a dover mangiare per risparmiare in locali un po' equivoci e quindi il consiglio è quello di fare una piccola ricerca prima di prenotare un volo che non costi niente anche alle possibilità di costi della vita della zona in cui andrete perché evitate qualche sorpresa magari spendete niente di volo e poi spendete 10 volte di più che avreste speso se aveste preso un volo un po' più caro in una destinazione con un costo della vita più umano non lo rifarei più numero 6 non sceglierei più un villaggio turistico per clientela americana ora voi direte ma perché cristiano dici non sceglieresti più un villaggio turistico per clientela americana e non soltanto non sceglieresti più un villaggio turistico perché mai dire mai nel senso che non è la mia vacanza ideale il villaggio turistico però ci sono destinazioni nel mondo che se non entri in un villaggio turistico difficilmente riesci a visitare faccio l'esempio delle Maldive è vero che ci sono soluzioni diverse ma sono poche per quanto riguarda alcune destinazioni villaggio turistico rimane sempre comunque una possibilità alcuni villaggi turistici mi hanno regalato delle esperienze uniche al mondo posso citare Mauritius l'isola di Mauritius con alcuni villaggi turistici che mi hanno regalato esperienze meravigliosi in un senso e nell'altro esperienze in un senso e nell'altro soffermiamoci su quelle meravigliose per quanto riguarda il villaggio invece per clientela americana io non lo rifarei più feci questi errori anni e anni fa con un villaggio in giamaica a negril un villaggio della sandals catena veramente frequentata quasi soltanto da americani nella stragrande maggioranza oltre al 90 per cento frequentata dagli americani una catena americana e quindi è una catena dove hai due tipologie di cose che non mi vanno non vorrei più vivere non vorrei più rivivere uno il cibo un cibo che è di tutto di più ma dove non trovi uno straccio di qualità anche solo voler mangiare due foglie di insalata con un filo d'olio del dell'olio più becero che ci sia non le trovi perché trovi le due foglie di insalata ma come condimento trovi solo delle simili creme che hanno tutto tranne che del condimento per insalata l'altra caratteristica che ha è che spesso e volentieri in questi villaggi ci si trova degli americani che vengono lì per mollare gli ormeggi per mollare i freni bigotti che hanno nella loro nazione perché in tanti hanno è una nazione che ha tanti freni bigotti in tanti stati degli stati uniti quindi abbandonano il loro stato in quella settimana si danno all'alcol sono ubriachi 24 ore su 24 ricordo questa coppia di sessantenni che arrivò con noi dall'aeroporto al villaggio della sandal e un secondo dopo che erano entrati ci diedero il cocktail di benvenuto che in realtà era un bellini quindi qualcosa di leggero loro invece chiesero un coca room subito immediatamente e dopo un'ora erano questa coppia di sessantenni non ragazzini in piscina a fare cose becere cioè nel senso che si vedeva che erano completamente ubriachi dopo un paio d'ore insomma il rilascio di queste persone in vacanza secondo me gli americani in questo senso fanno pena perché sono bigotti tutto l'anno in certi stati degli stati uniti quando vanno in vacanza poi diventano beceri diventano i peggiori e quindi eviterei villaggi con la maggioranza della clientela americana quindi non parlo di villaggi che abbiano uno stile italiano non parlo di villaggi che abbiano uno stile spagnolo o comunque europeo ultima cosa che non farei più assolutamente e l'ho lasciata per ultima per quella è quella un po più di cuore diciamo non imporrei mai più a qualcuno di partire per una destinazione solo perché è un mio desiderio in passato non nego che con ragazze con amici che ho avuto con legami anche sentimentali ho spinto io per visitare determinati luoghi e la persona che era con me in quel momento sarebbe voluta essere in tutt'altri luoghi ora nel diciamo parlarsi e anche cedere a volte per amore o per desiderio di un altro di un amico caro di un'amica cara ci può stare però farlo sistematicamente no ecco non farei più questa opera di convincimento abbellimento o di storytelling su destinazioni che di storytelling avvano ben poco se no il desiderio mio di visitarle quando poi invece sei sul posto capisci che l'altra persona che è con te ripeto vorrebbe essere da tutt'altra parte non si sta godendo il viaggio e anche il viaggio in sé diventa problematico c'è di base che non tutti si adattano come giusto che sia io farei lo stesso se mi obbligassero ad andare in una destinazione e poi dopo ripeto il viaggio ne risente ne risente tanto non è che ho obbligato con la forza però con le parole non sono male spesso e volentieri sono riuscito a raccontare cose storytelling fare storytelling appunto su destinazioni che erano dei miei sogni ma che erano indorature di pillola sostanzialmente per le altre persone quindi non l'ho fatto spesso devo dire la verità ma fino a 15 20 anni fa lo facevo un po per paura di viaggiare da solo è perché allora non avevo questa questo amore per il viaggiare da solo ora non ci penserei mai se non ho una destinazione che è condivisa ma è un mio sogno veramente beh faccio in modo di visitarla da solo non ho nessun tipo di problemi una volta avevo un po tutte le paure del caso e quindi che ho trattato varie volte quindi c'erano delle opere di convincimento che non farei mai mai più questo è veramente è uno degli errori quindi lo metto anche nella lista degli errori ma non te l'avevo citato una delle cose che non farei mai più mai più e con questo chiudiamo quest'altra lista di cose che non farei più anche questa volta mi sono messo a nudo diciamo in senso figurato però forse mi conosci un po meglio forse capisci anche il percorso che ho fatto e il percorso che sto facendo se questo tipo di video ti piace ma anche se ormai ho capito che si ti piace comunque se ti piace un pollicione verso l'alto aiuta a crescere il canale ad aumentare la famiglia e questo mi fa felice ti chiedo e ti dico già grazie 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 se non sei ancora iscritta iscritta beh questi video ogni tanto li faccio ma trovi anche tanti video con consigli di viaggio il pulsante iscriviti è qui sotto ed è completamente gratuita l'iscrizione qui a fianco stanno passando altri due video appunto dove racconto di me